A proposito della mozione 100886 propongo all'onorevole Brunetta di valutare la possibilità di operare nella parte dispositiva della mozione queste modificazioni. Il secondo capoverso dell'impegno dovrebbe diventare il primo, cioè quello che riguarda la definizione degli interventi per ridurre le commissioni a carico degli esercenti a proposito delle transazioni effettuate mediante monete elettroniche e così via. A quel punto trasformare il primo periodo dell'impegno nel secondo e aggiungere dopo a porre in essere la frase seguente nel contesto creato dall'iniziativa di cui all'impegno precedente. In questo secondo impegno che nella mozione figura come primo e diventerebbe secondo se si accogliesse la proposta dovrebbe essere cancellata l'espressione dai 1000 euro ai 3000 euro perché è un riferimento quantitativo su cui il parere del governo è negativo. Infine al penultimo capoverso la proposta è che si dica invece che ad assumere iniziative a valutare l'opportunità di assumere iniziative e così via. A queste condizioni il parere sarebbe favorevole. Se è ovvio legittimamente i proponenti volessero mantenere il testo così com'è per la ragione che ho già spiegato il parere è negativo.